Vuoi veramente aumentare la tua capacità motoria? Ti senti rigido? Ti senti bloccato? Vuoi veramente riuscire a scioglierti? In questo video ti voglio far vedere come con un esercizio ti puoi veramente sbloccare. Io come te non credo tanto alle parole, infatti sono uno sportivo. Sicuramente provo, tento ed è quello che ti propongo di fare. Prova, tenta e poi parliamo dei risultati, parliamo di quello che ti accade e vediamo se effettivamente funziona oppure no. Questo esercizio già l'ho fatto vedere in precedenza, fatto in salone. L'ho riscoperto perché l'altro giorno mi è aumentato il mal di schiena, soprattutto perché per giocare con mia figlia in questi giorni mi devo inventare tutto di più e fisicamente l'impegno è completamente diverso. Io sono abituato ad arrampicare e quindi i movimenti, bene o male, sono comunque sotto controllo. Invece il mio corpo deve rispondere più velocemente ai vari giochi, quindi si deve piegare, distendersi, accucciare, saltare, rincorrersi. Sono tutte attività che richiedono in realtà un'agilità superiore. Cioè tornare bambini, tornare giovani, tornare elastici. Quindi ho selezionato questo esercizio che già ho visto che comunque mi portava a grandi benefici, solo che l'ho isolato e l'ho ripetuto per una decina di volte. Cosa è successo? Che successivamente dopo, c'era una sezione di ballo con mia figlia, mi sono ritrovato completamente diverso, nel senso che riuscivo a stare molto più piegato sulle gambe, a scendere molto di più, a piegarmi di più, andare più vicino al suolo velocemente, quindi piegarmi e raddrizzarmi. Io ti consiglio di provarlo, il minimo sforzo, quindi senza pensare di arrivare da nessuna parte, senza sforzarti, quindi risolvere la tensione e ripetelo per una decina di volte, per un massimo più o meno di 20 secondi, dopo mi potrai dire se effettivamente funziona o non funziona. Vabbè, comunque sempre a letto, ambiente ultra favorevole, ultra comodo. Mi metto in questa posizione, piego la gamba destra dietro, piego la gamba sinistra andando avanti, proprio appoggiato col tallone sul ginocchio sinistro. In questa posizione metto la mano destra sopra il ginocchio sinistro. Solo con il peso della mano, cerco di rilassare la gamba e aspetto, non faccio niente, vedo se va verso il basso. Da qui conto, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, fino a 1.020. Quello che ti posso dire è che questo esercizio lavora non solo sulla tutta la parte inferiore, ma va a coinvolgere anche la schiena. Quindi va anche ad aiutare la torsione, l'elasticità della colonna, che è importantissimo. Per dirti un'altra, quello che io sento come dolore, in realtà lo sento nella parte interna. Quindi uno gli verrebbe di pensare di andare a lavorare sulla parte interna. Invece questo esercizio qui mi risolve proprio quel dolore. Lavorando sulla parte esterna ottengo benefici sulla parte interna. Questo diciamo che si basa sul principio di come siamo fatti. Noi abbiamo muscoli agonisti e antagonisti. Se un muscolo, diciamo in questo caso agonista, per piegare la gamba verso l'interno, fa male, non è detto che dipenda da questo, ma dipende magari da una tensione dell'antagonista, che è quello che genera l'apertura. In questo caso ovviamente noi siamo un sistema complesso, non è un muscolo solo che interviene, ma sono svariati i muscoli. Io questo dolore facendolo dieci volte, non te dico uno o due volte, ma facendolo una decina di volte, mi passa. Non solo mi passa il dolore, ma quello che mi aumenta è la motilità, la mia elasticità. Cioè è incredibile. Dall'altra parte mi risulta a me molto più semplice. Cioè gamba sinistra sotto, gamba destra che va a incrociare, appoggi il tallone sopra il ginocchio della gamba destra, tallone destro sul ginocchio sinistro, appoggio la mano sinistra. Come puoi ben vedere, questo lato qui è molto più semplice. Questo tra l'altro mette in evidenza, non solo che io non sono simmetrico, ma nessuno lo è. Io in ogni caso lavoro da tutte e due le parti. Non è il fatto che io da questa parte ci riesco vada bene, in realtà io devo lavorare su tutte e due. Questo è un concetto anche molto interessante, anche da capire dai risvolti psicologici, per chi si allena solo verso le carenze. In realtà tende a sminuire, a svalorizzare i propri talenti. Nel lavoro di allenamento uno deve sviluppare i talenti e anche andare a colmare le carenze sulle conseguenze. Infatti a me non è che, essendo molto più sciolto, non vuol dire che questo esercizio non mi lavora. No, non mi lavora. E come? Comunque è un riferimento. Io torno indietro, vi faccio vedere anche qui dall'altra parte. Allora, pure qua. La posizione deve essere comunque più o meno approssimativa. Non esiste la posizione perfetta. La posizione perfetta è quella che tu riesci a ottenere, a raggiungere in questo momento. Se non riesci a stare in questa posizione, lo puoi fare davanti a un muro, davanti a un oggetto che ti crea un vincolo in maniera tale che tu non stai preoccupando, non crei tensione perché i piedi se ne vanno in giro.